E' il 9 marzo 2009, quando con una solenne cerimonia venne posta la prima pietra per il raddoppio della statale 640. Sono i ministri alle infrastrutture Altero Mattioli e alla giustizia l'agrigentino Angelino Alfano, immortalati da fotografi e cineoperatori a suggellare l'evento. Un momento dalla doppia valenza, la fine degli anni di attese, ma anche l'inizio di una nuova fase che pone la provincia di Agrigento all'avanguardia sul fronte delle infrastrutture viarie. E' il raddoppio dell'agrigento Caltanissetta, va proprio in questa direzione. Un obiettivo per raggiungere il quale è stato necessario il tributo di sangue di decine, centinaia di vittime e di incidenti avvenuti lungo le decine di chilometri di asfalto della 640. Un iter che parte a metà degli anni 90, sotto la presidenza della provincia di Stefano Vivacqua. La prima tappa, l'incontro nell'aula consigliare con i vertici di Anas e Regione per la firma dell'accordo di programma sulle procedure di progettazione. Ma è sotto la presidenza di Enzo Fontana che il progetto di raddoppio della statale 640 prende forma e consistenza. Nel settembre 2007 l'ultimo atto di un lunghissimo e tortuoso iter. La giudicazione dei lavori del progetto, cofinanziato anche dalle due province, prevede la realizzazione di quattro corsie, due per senso di marcia con sparti traffico centrale. Il tratto di strada interessato dal raddoppio è quello compreso tra il chilometro 44 nella zona di Canicattì fino all'innesto con l'A19 Palermo-Catania. Tra le opere principali sono previste 16 viadotti, 5 gallerie artificiali, 4 gallerie naturali ed un ponte. L'importo compressivo del progetto ammonta a 448 milioni di euro stanziati dal Cipe. Termine di consegna del lavoro il 2012. Il 10 novembre 2011 il taglio del nastro dei primi tre chilometri, altri otto a gennaio 2012 e altri nove stamani. È sempre oggi la prima pietra della realizzazione del secondo lotto della statale 640 Porto Empedocle-Caltanissetta.